Io ho avuto la fortuna di vivere questa realtà sino dai miei primi giorni. L'azienda è nata nello stesso anno in cui sono nato io. Questo è stato un grandissimo valore che mio padre è stato capace di trasferirmi. Conquistare il mercato americano dell'elezione per i farmaci generici è stato il primo passo. Penso che il motivo del successo di un'azienda piccola, familiare, sia poi il valore che si dà alle persone. Il ricercare nei suggerimenti dei nostri clienti e nei valori dei nostri collaboratori è sempre la risposta giusta alle richieste del mercato. La capacità della nostra famiglia di riuscire a trasferire all'interno di un'azienda un rapporto umano tra ognuno di noi ha permesso di poter fare le giuste scelte al momento giusto. Quindi seguendo la crescita umana e professionale di tutti coloro che partecipano a questo successo. Grazie a tutti.